Buongiorno, buongiorno agli amici del canale, sono Bob Gass e sto andando in questo momento al lago dell'Accesa, un bellissimo lago vulcanico che è in provincia di Grosseto. Ed eccoci arrivati al lago dell'Accesa. Ci sono varie varie leggende, addirittura di un mega coccodrillo che assale i visitatori. Naturalmente non vi è mai stata trovata traccia e questo lago una volta si pensava che non si conoscesse la profondità e invece diciamo che si arriva sui 40 metri. Questo lago alimenta il fiume, il fiume Bruna. Questo che da qui sembra un piccolo ruscellino si trasforma nel fiume Bruna che arriva fino a Castiglione della Pescara. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se questo video vi è piaciuto vi invito a seguirmi sui miei canali social, YouTube, Facebook, Twitch e TikTok, Bob Gass TV. Grazie al prossimo video.